Siamo i vincitori della prima edizione di Special Stage, il coronamento di un percorso, di un lungo percorso che è iniziato più di un anno fa. È stata veramente una bella competizione, siamo contentissimi e secondo me ha vinto il divertimento, ci siamo divertiti tutti. E' partito a Roma ed è partito in Calabria, quindi queste due città ci hanno già accompagnato. Abbiamo ricevuto da associazioni locali la richiesta di organizzare Special Stage in altre città. Milano è molto di più di una città ricca, una città della moda, è una città generosa. Conoscersi tra periferia, centro città, giovani, più vecchi, quelli che hanno avuto molto successo, quelli che lo cercano il successo. E quelli che l'hanno avuto lo diano ai giovani. Io sono qui per questo. Anterò viva la pappa col pomodoro. L'ho portata quando ero piccolo allo zecchino d'oro. Siete pronti? Vai con la base. Noi, io l'ho portino è una pizza. Da me trovare un Za un posto per il a soleè. Atrò un tempo, perché troviamo i Menna casi Siete un posto nel nonno. E c'è un posto per i tutti r TWP code 17 d'ora mia progettazione al gi bounceco di r lusho. Siete qua, io sao che c'è un posto nel nonno. And there's hope for everyone When my room restates hard Gonna run